Salgono sull'ascensore e dopo pochi, interminabili secondi di terrore, si schiantano al pian terreno. È successo nella nuova sede di assicurazioni di Roma, in via delle Mura Portuensi. Nella mattinata quattro dipendenti e una consulente esterna salgono sull'ascensore, ma qualcosa va subito storto, la cabina si blocca e poi in pochi attimi precipitano al pian terreno. Per loro solo fratture e contusioni. Secondo una prima ricostruzione, infatti, i freni di emergenza sarebbero entrati in funzione, scongiurando il peggio. Nessuno ha voglia di parlare, solo con la telecamera abbassata, un testimone racconta quegli attimi di paura. Ho visto i cosi, i campioni, le macchine di ambulanza, il socio seguito, il passo. Perché è caduto da un piano solo l'ascensore. Ma no, è no questo ascensore, è aperto adesso, il 28 febbraio. La sede di assicurazioni di Roma è stata aperta al pubblico da un paio di settimane. Pare che l'incidente si sia verificato il primo giorno dopo il collaudo definitivo. Adesso la polizia intervenuta sul posto sta effettuando i rilievi per appurare la dinamica dell'incidente.